Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video da Mobile Phone Island Continua la collaborazione con Sony Questa volta mi hanno inviato un Xperia X Performance Un telefono davvero bello, vediamolo insieme dopo la intro Ecco qua, partiamo dall'unboxing La scatola è molto carina, però vi avviso che è una confezione per la stampa Quindi vedete Demo Linux for Sale, quindi è una versione per giornalisti Quindi la versione nel caso compriate il telefono sarà leggermente diversa Però comunque la confezione è questa, vedete qua abbiamo un po' di manualetti Che qua sono davvero pochi, comunque nella vostra confezione ci sarà di più Poi c'è questo caricatore che ho notato che è molto lento Probabilmente è un problema della mia unità Perché ho visto che a caricare l'1% ci metto 5 minuti Quindi direi che è una cosa che è probabilmente un difetto Poi qua c'è anche un cavetto USB, micro USB Che vedete è abbastanza lungo e sembra di buona qualità Poi avrete anche le cuffie ovviamente che sono le classiche Sony Eccoci qua davanti al nostro X Performance, come vedete è molto bello Ha la cover posteriore in alluminio e anche frontalmente Invece questa parte qua è in metallo Quindi comunque devo dire che il design è molto bello Sì è un po' pesante, è un po' scivoloso, però comunque bisogna dire che è molto ben costruito E ha un design davvero bellissimo Tra l'altro è anche IP68, quindi resistente al massimo alla polvere Invece è sott'acqua, resiste per mezz'ora a un metro di profondità Io non ho provato, però se volete vedere un test Passate sul canale di SmartDroid che lui ha lo stesso telefono e ha fatto il test di impermeabilità Quindi vi consiglio di guardare quel video Qua abbiamo la fotocamera frontale da 13 megapixel con la capsula auricolare Che integra un bel led di notifica Qua i vari sensori, cioè luminosità e prossimità Qua c'è l'altoparlante stereo, vedete è un ottimo posizionamento Su questo lato il carrellino per una nano sim e una micro SD Qua abbiamo il tasto di accensione e sblocco Che integra un lettore di impronte digitali che è molto veloce Però ho notato che se abbiamo il telefono appoggiato su un tavolo E cerco di sbloccarlo non sempre riesce Adesso mi ha svolto il tasto in diretta ed ha funzionato Ma ci sono molte volte che io provo e non riesce Perché di solito bisogna mettere il dito in questo modo In modo che sia ben centrato Alcune volte mi è andata difficoltà Comunque per il resto è velocissimo e molto preciso Qua abbiamo in questo strano posizionamento il bilanciere del volume E il tasto per la fotocamera che funziona anche per la messa a fuoco e lo scatto Qua sotto abbiamo un microfono e l'ingresso micro USB Strano non avere la Type C su un telefono di questo tipo Invece sopra altro microfono e gioco per le cuffie Come caratteristiche abbiamo un display da 5 pollici full HD Processore Snapdragon 820 con 3 GB di RAM Fotocamera dietro abbiamo quella da 23 megapixel con il flash LED Quella davanti ai 13 come vi dicevo 3 GB di RAM 32 GB di memoria interna espandibile E batteria da 2700 mAh Un telefono molto completo devo dire Comunque che funziona molto bene Il display è un pannello full HD da 5 pollici molto bello I colori sono realistici Abbiamo una luminosità alta I neri sono buoni anche i bianchi La luminosità automatica funziona bene Abbiamo il bilanciamento dei bianchi Poi abbiamo due tecnologie per l'immagine Una è l'X-Reality 4 Mobile Per colori più nitidi Super vivid e per colori più vivaci Poi abbiamo anche la funzione Controllo smart Controllo luce smart In modo che il telefono non si spegne davanti alla nostra faccia Quando magari per qualche minuto stiamo leggendo qualcosa Quindi un display molto buono La recezione devo dire che è molto buona Anche se ho fatto un po' fatica a prendere il 4G Però comunque toccando le impostazioni Passando dalla modalità GSM a quella 4G Poi il 4G prende Non so perché faccia così Magari è un problema del mio operatore Di sicuro Quindi penso che è un problema di poco conto Comunque Se avete un altro operatore Non dovreste avere questo problema Per quanto riguarda l'audio dalla capsula E' buono E si sente bene Si riesce a capire bene Ci sentono bene L'iva voce E' buono E si sente bene E nessun problema Con Wi-Fi Dual Band GPS E Bluetooth Tutti i componenti che ho usato in questi giorni di utilizzo Per quanto riguarda il problema Della chiamata 155 Ho chiesto alla Wind E hanno detto che anche altre persone Hanno avuto questo problema A contattare il servizio clienti Quindi ancora non posso farvi sentire L'audio in viva voce Ma fidatevi che si sente bene Analizziamo le software Come vedete Android 7.0 NewGut Con le patch di gennaio 2017 Quindi abbastanza recenti Si non è l'ultima L'ultimissima versione di NewGut Però comunque Se la cava bene Comunque Sony personalizza leggermente la sua interfaccia Vedete Abbiamo anche Google Now nel launcher Poi possiamo aggiungere elementi Sfonde Abbiamo un po' di impostazioni Vedete Le dimensioni della griglia Oppure Cambiare l'aspetto delle icone Poi abbiamo anche Mostra nomi Poi il spostamento di quadri Sarebbe Gli effetti di transizione Se avere Google Now Se aggiungere le icone Sfiora due volte per sospendere E poi se avere l'app suggerita Che ve la faccio vedere qua Nel classico Drover Sonic Abbiamo questa pagina dove Qua mette l'applicazione di uso più frequente Anche se secondo me non è precisissimo Perché Ci sono applicazioni che magari ho usato ieri E altre che ho usato avanti ieri E quindi Diciamo che Non è che sia poi Come dice Poi qua ci sono delle applicazioni sponsorizzate Che secondo me Alla fine Ha nessuno interesse Ma potete benissimo Disattivarle Quindi non vi darà fastidio Poi il Drover È il solito Sì la griglia Non si può ingrandire Però alla fine va bene Poi abbiamo I motivi Che sono i temi della Sony Vedete qua Io ne ho scaricato un po' Essendo un telefono di fascia più alta Ne ho trovato di più Di carini rispetto All'Xperia E5 Comunque Ce ne sono ancora tanti A pagamento E Secondo me qualche Duno carino L'ho trovato di sicuro Comunque Alla fine il telefono È già bello così com'è Poi Come vedete Abbiamo le notifiche di Nougat Abbiamo anche il multi windows Ovviamente Poi abbiamo qualche funzione Come info sul telefono Poi la batteria Abbiamo anche la modalità stamina E la ultra stamina Per avere Per gestire meglio la batteria Poi archivazione memoria C'è questo Schermato Per fare un po' di pulizia Però Poi si può anche impostare La scheda di memoria Con memoria predefinita Anche se i giga sono 32 Vedete qua Invece apre Le classiche schermate Di Nougat Quindi Non ci sono Grandi problemi Poi per il resto I motivi Sfondi Poi c'è anche Una modalità MyXperia Per bloccare il telefono E cancellare i dati In caso di furto Vedete qua C'è lo smart lock Poi il lettore di impronte Che fa solo lo sblocco Però è molto preciso Potete Impostare anche Anche più di Tra le protezioni MyXperia Poi le applicazioni Multimedia Sono davvero molto belle Ve le ho già fatte vedere Varie volte Quindi non mi dilungo Però ne abbiamo un po' In più Per esempio Queste Lunge Oats News Che sono notizie Consigli E roba e così Quindi c'è questo Effetto AR Che è davvero Molto carina Perché permette Di attivare Degli effetti Alla fotocamera Per esempio Mettiamo Favola Vedete Possiamo scegliere I pupazzetti Da mettere qua Vediamo se funziona Ecco Vedete È un po' Un effetto In realtà Aumentata Vedete che possiamo Aggiungere degli effetti Purtroppo Quello Ecco Vedete Si creano anche I pesci Vedete È una cosa Molto carina Senza prendere Un telefono Che sia particolarmente Ottimizzato Per questa tecnologia Comunque È un'applicazione Carina Nulla di che Poi abbiamo Movie Creator Per fare Brevi video Poi il video ATV slide È obbligatorio Se volete usare I video di Sony Track ID Per riconoscere Tracce musicali E poi Life Log Che invece Segna Quello che facciamo Col 3 Vedete Oggi Ho fatto queste cose Ieri queste Vedete Conta anche un po' I passi E altre cose Di questo tipo Poi abbiamo La tastiera Swift Key Che comunque È bella Ha vari temi Anche se Uno dato che Lascia sempre spazio Tra una parola e l'altra Non so perché Non sono riuscito A correggere Questo problema Comunque È un problema Della tastiera Si può cambiare Tranquillamente Dal prestore Che ci sono Tante altre Alternative Le prestazioni Sono davvero Molto buone Infatti Anche sotto stress Non ci sono Nessun tipo Di problemi L'applicazione Di uso comune Si apre Veloce E comunque Anche sotto stress Nessun problema I giochi Girano molto fluidi Con i dettagli Al massimo Però comunque Qualche crash E un blocco L'ho avuto In questi giorni Tutte cose Molto sporadiche Si sa che Spesso Che le applicazioni Android Non sono Molto Ottimizzate Poi con la grande Deflamentazione Per gli sviluppatori Realizzare un'app Che gira bene Su Nougat Come su Gingerbread È davvero difficile Poi comunque Magari anche La ROM Che è recente Che suoni Un aggiornamento Di pochi giorni Fa magari Tra qualche mese Magari potrebbero Rilasciare Qualche Piccolo Aggiornamento Magari per migliorare La stabilità Anche se Il telefono gira Molto bene Secondo me Sono le applicazioni Più di altro Il calore C'è Ma non è eccessivo Anche se Poi comunque Da qualche problema Con la fotocamera Di cui però Ne parleremo dopo Facciamo un test Del browser Che abbiamo Chrome Come preinstallato E comunque Devo dire Che se la cava Molto bene Vedete Il caricamento Veloce Non dà Nessun tipo Di problemi Lo scorrimento È davvero Molto fluido Quello La sta ancora Caricando E comunque Devo dire Che Si riesce A navigare Molto bene Adesso parliamo Di fotocamera Questa è L'applicazione Sony Che è fatta Molto bene Abbiamo una Modalità Manuale Che ha Più effetti Come per esempio Le scene Anche se per applicare Le scene Mi sa che bisogna Diminuire La risoluzione Forse A 8 megapixel Riesce A 8 megapixel A tutti Gli effetti A 23 Quindi Questa è già Una cosa Un po' fastidiosa Comunque Di predefinito Con la modalità Manuale Scatta A 23 megapixel In 4 terzi Invece Quando mettiamo La modalità Automatico Superiore Va automaticamente Di solito A 8 Qua Adesso Ho memorizzato La mia impostazione Ma di solito Scattava A 8 Anche a 8 Vengono molto bene Poi c'è Il video Che Vengono In full hd A 60 frame Per secondo E poi Qua invece Abbiamo un po' Di effetti Da scaricare A applicare Sono tutti Molto comodi Proviamo Una foto In manuale A 23 megapixel Per Perché tanto Comunque La risoluzione La supporta Ecco Proviamo A fotografare La scatola Del pupazzino Ancora Vedete È abbastanza Veloce Ci mette Un po' A salvarla Però Comunque Lo scatto È veloce Passiamo Alla galleria Questa è Questa è L'ultima Foto Che ho scattato Vedete Che Con tanta Luce Vengono Molto Questa È a vendita Si registra Un video Per Nel mio caso Per più Di Sei minuti Compare Questo messaggio Che il telefono È caldo Il calore Aumenta L'applicazione Fotocamera Si chiuderà Vedete Qua è un problema Un po' Fastidioso Infatti Vedete E poi Dopo Dopo Un po' Qua In questo Caso Ha Ha Crasciato Proprio L'applicazione Per Le motivi Di sicurezza È un problema Fastidioso Considerato Che questo Era un top Di gamma Comunque Alla fine Basta Stressarlo Un po' Di meno E non Si avrà Questo Questo Qui È un video Che Che Ho fatto Per vedere Finché Reggio La fotocamera Vedete Si è chiusa Al minuto 9 E 14 Quindi comunque Una decina di minuti Riuscite a registrare Anche comunque Il pop up Lo mostra subito Però la chiusura È più in là Questo qui invece È il video di test Che È classico Con Con poca luce O poi nemmeno Proprio poca Però insomma Si poteva Fare Con più luce Comunque È venuto bene A risoluzione A massimo Questo qui È una macro Con 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 tanta luce A vendita La megapixel Questo qui Anche a vendita La megapixel È venuta bene Vedete Questo qui invece È l'effetto Che vi dicevo Di quella Applicazione Praticamente Si posizionano Questi pupazzetti Qua O questi Oggetti qua E poi E poi Si scatta Quindi Una specie Di realtà Aumentata Questa qui Con poca luce Vedete che A 8 megapixel Vengono bene Lo stesso Questa qui Con poca luce Ma ha illuminato Un po' meglio Il flash Questa Sempre con Poca luce Anche questa Invece Questa è con Tanta luce E vedete che Con tanta luce Le foto Vengono davvero Molto bene Anche questa Con tanta luce Questa qui Sempre con Tanta luce Vedete Le foto Con tanta luce Vengono molto bene Anche al buio Comunque Non vengono male Comunque Le foto Vengono male Il problema Della fotocamera Del calore È un po' Fatto Un po' Fastidioso Nel caso qualcuno Compra questo telefono Per fare lunghi video Comunque Per il resto Se la cava bene Anche i selfie Vengono bene Perché abbiamo 13 megapixel Quindi Vengono molto Luminosi Per quanto riguarda L'audio Abbastanza bene L'audio Ha una buona qualità Però il volume Potrebbe essere Un po' Più forte Abbiamo comunque Una capsula Auricolare E un alto Parante di sistema Sullo stesso lato Quindi Quando si appoggia Sul tavolo O su coperti Si sente bene Però il volume Potrebbe essere Un po' Più alto Considerando anche La fascia Di prezzo Del telefono Invece I bassi Sono garantiti Dalla Dalla vibrazione Della cassa Posteriore Quindi È un effetto Che a me Piace molto Per quanto Invece Riguardo La radio FM È assente Come sulla maggior Parti Dei top Di gamma Questo è Il lettore Di musica Di musica Le Sony Ha pure Delle impostazioni Audio Che ho visto Che migliorano Un po' La situazione Ma Comunque Non è che Cambi più di tanto La batteria Invece È il reparto Meno convincito Del telefono Perché con uso intenso A sera Non si arriva Si fanno Circa 3-3 ore E mezza Invece Con un uso Più blando Magari riuscite Ad arrivare A sera Però in quel caso Ha meno senso Avere un telefono Di questo tipo La ricarica Comunque È veloce Grazie al Quick Charge 2.0 Che comunque Diciamo che Aiuta A avere Meno Problemi Con la batteria Perché comunque Questa tecnologia È presente Su molti caricatori E power bank Quindi comunque In tempi veloci Si carica E quindi Potete continuare A riutilizzare Il vostro X Performance Per quanto riguarda Gli aggiornamenti Mi è già Arrivato Con Nougat Per installato Poi ho fatto Un aggiornamento Io E comunque Direi che Ne riceverà Altre Magari per Risolvere Qualche problemino Magari Quello della Fotocamera O altre Piccolezze Comunque Avrà Degli aggiornamenti Della parte Di sicurezza Ma comunque Abbiamo ancora Di gennaio Quindi è Recentissima E comunque Sony Aggiornare A lungo I suoi telefoni Quindi secondo me Android 8 O chi per lui Arriverà Sicuramente Per quanto riguarda Il modding Grazie al processore Qualcomm Su XTA Abbiamo un po' Di rom Però non sono tantissimi Comunque Sony Lascia il codice Su gtab Quindi se sapete Sviluppare rom Potete Costruire la vostra Tranquillamente C'è lo sblocco Del bootloader Che però Si perde la garanzia Su molti Sony Sbloccando Il bootloader Si hanno problemi Con la fotocamera Quindi Comunque attenti Nel caso Il modding Sia importante Per voi Come prezzo Abbiamo Un S Sì è intorno Ai 460 euro Sia su Amazon Che da Made World Online Che anche lì Forse costa un po' Di meno Comunque Tra i 450 E i 500 E più o meno Il prezzo Che si trova adesso Comunque È un prezzo Che è abbastanza Giusto Che comunque È già uscito Un modello successivo L'XZ E tra un mese Di sicuro Sony Lascerà almeno Un altro top di gamma Questo è un telefono Che ha un ottimo display Ottime prestazioni E la fotocamera Che funziona bene Anche se Il problema Della Temperatura È un po' fastidioso Invece L'audio E la batteria Sono aspetti Che non mi hanno convinto Comunque È un telefono Che è interessante Ringrazio molto L'ufficio stampa Sony Per l'invio Di questo sample Ringrazio anche a voi Per la visione Fino alla fine Di questo video Se il video vi fosse piaciuto Mettete mi piace Commentate E condividete Iscrivetevi Al mio canale Vi ricordo Di premere Sulla campanella Sotto il video Per ricevere Tutte le notifiche Dei nuovi caricamenti E tra l'altro Ho visto Che ci sono Le notifiche Anche per Chrome Desktop Di YouTube Quindi è comodissimo Se usate Chrome Su tutti gli sistemi Operativi supportati Vi consiglio Di attivarle Così Comodamente Dal computer Potete vedere Quando Calico i nuovi video Per questo video è tutto Ci vediamo Alla prossima Sempre qui Su Mobile Phone Andando Ciao Ciao